buongiorno amici oggi per voi abbiamo ritirato questo splendido euro tracker quattro assi 420 cavalli del 1997 anche se potrebbe sembrare un autocarro giurassico non ha per niente voglia di andare in pensione è stato infatti revisionato il cambio un anno e mezzo fa e il motore è stato completamente revisionato ed ora l'attivo a solo 300.000 km la vasca è ribaltabile sui tre lati ed ha i copri scopri cramaro complessivamente si presenta in ottime condizioni ed è pronta al lavoro non esitate a contattarci per ulteriori informazioni